Marco Bertelli riparte oggi la stagione sia degli allevi che della primavera, con quale intenzioni si ricomincia? Con le solite intenzioni di fare bene, di far crescere i nostri ragazzi, di creargli un percorso didattico importante affinché alcuni di loro poi possano avere magari tra un anno e due uno sbocco importante in prima squadra. La prima squadra chiaramente facendo la Serie A diventa un parco scenico talmente impegnativo che abbiamo la responsabilità di far crescere in maniera importante i nostri ragazzi sotto tutti gli aspetti fisico, tecnico, caratteriale e soprattutto secondo me di personalità perché poi la cosa più importante che ci vuole per affrontare una categoria così importante è farli crescere da un punto di vista caratteriale e di personalità. Andiamo per ordine, presentaci la primavera che vede tanti ragazzi degli allievi dell'anno scorso. Sì, la primavera penso sia un gruppo qualitativamente buono che va ad unire il gruppo dei 97 al gruppo dei 98. I 97 secondo me abbiamo dei prospetti interessanti, poi chiaramente c'è un prospetto come Hassan che ormai fa parte della prima squadra quindi non farà più parte della primavera ma ci sono dei prospetti interessanti che sono già andati a fare il ritiro con la prima squadra e si va ad unire al gruppo dei 98 che è riuscito nell'impresa di centrare una finale a livello nazionale persa per un non nulla quindi vice campione d'Italia. Ci sono delle discrete aspettative ma la cosa più importante da parte nostra è quella di creare poi dei giocatori che siano pronti per il salto o per la prima squadra quindi il discorso di porsi degli obiettivi quali le finali sì ci devono essere ma quello che conta poi è il miglioramento dei singoli migliorare la squadra migliorando ogni singolo giocatore è quello che ci poniamo come obiettivo. Gli allievi invece sono i 99 con qualche ragazzo del 2000. Allora gli allievi è un gruppo giovane come lo è il gruppo anche della primavera perché sono soltanto 7 i 97 e poi sono tutti 98 a parte Centuria che è l'unico ragazzo 96 che come obiettivo abbiamo di fargli fare almeno la prima parte con noi fino a gennaio e poi vedere un attimino quello che si prospetta. Il gruppo degli allievi è un gruppo che quando sono venuto qua a Monteboro non c'erano delle grandissime aspettative perché mi parlavano di un gruppo qualitativamente un pochino più basso rispetto agli altri gruppi dell'Empoli quali il 98 che aveva già ha conseguito già nei giovanissimi l'obiettivo ad esempio delle finali. È un gruppo che però sotto la guida di Mutarelli e dello staff l'anno scorso insieme ad Esposito è cresciuto molto e quindi è un gruppo che è molto diverso perché è un gruppo secondo me più fisico e meno tecnico di quello dell'anno scorso degli allievi nazionali 98. I 2000 secondo me possono portare grande qualità, ci poniamo l'obiettivo di farli crescere senza porci degli obiettivi nell'immediato da un punto di vista troppo alti però secondo me è un gruppo che potrebbe essere la sorpresa del campionato. Grazie. 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 Grazie.